Buon pomeriggio a tutti ragazzi Siamo di nuovo live, il penultimo live dell'anno dovrebbe essere questo E come avevo già detto ieri Siamo live con Lost... porca miseria abbiamo iniziato bene Siamo live con Lost Orbit Lost Orbit è un gioco indipendente di Pixel Nauts Un team di sviluppo canadese Uscito, se non mi sbaglio, a maggio su PS4 Noi abbiamo ricevuto di recente il codice per recensirlo Ed eccoci qui insomma Cosa è Lost Orbit? Allora, si tratta di un side scroll Nanna mia Faremo vedere se mi sento un attimo Ok mi sentite però forse mi cammino a abbassare un altro po Il volume del gioco così Mi sentite ancora meglio Un attimo solo No No Così Ok Allora È un gioco a scorrimento verticale In cui impersoniamo i panni di un ingegnere aerospaziale Che è rimasto Madonna Si muore tantissimo in questo gioco Mi abito Quindi vi farei le grandi risate Fatemi vedere se adesso va meglio Un altro po' Mi conviene Perché me lo alza così tanto? Ok Vediamo se adesso va meglio Oh me lo porta Vabbè Fa niente Comunque mi sentite Allora dicevo Siamo Investiamo i panni di questo ingegnere aerospaziale Che Mentre riparava un relay di comunicazione Si è visto la sua nave Distruggersi da un asteroide O comunque da qualcosa di non meglio specificato E quindi si ritrova adesso a vagare nello spazio Per cercare di tornare a casa Può contare su un utilissimo oggetto Per appunto Andare in giro Ed è accompagnato da un robottino Che altri non è che il narratore di questa storia Madonna Che altri non è che il narratore di questa storia E appunto il suo obiettivo è tornare a casa Vediamo se riusciamo a portarlo La caratteristica di questi giochi Di questo gioco è davvero molto semplice Il concept diciamo Vedete il nostro personaggio si muove a destra e a sinistra Lo possiamo controllare liberamente Con il tasto X Si attiva una sorta di mini turbo A cui va accompagnato poi il tasto R2 Per il turbo Diciamo definitivo Chiamiamolo così Così si va più veloce Con L1 ed R1 Si fanno queste sorte di schivate Che vanno sbloccate E l'obiettivo di ogni livello È raccogliere queste stere rosa Diciamo rosa Che sono gli octanium Che altri non sono Che la moneta del gioco Con il quale poi si potenzia il personaggio Si poi dicevo sul turbo Il turbo va ricaricato Come potete vedere in basso a sinistra C'è una barra di combustibile Tenendo premuto il tasto X Vedete non si consuma combustibile Però appena premete 2 Il combustibile si consuma Per ricaricare il combustibile Basta semplicemente ruotare attorno all'orbito di un pianeta E si ricarica quindi la barra di combustibile Bisogna ovviamente stare attenti a diversi ostacoli Come avrete potuto vedere Prima sono morto già diverse volte Diciamo che questo Ogni livello è abbastanza breve Diciamo che Ok se mi sentite La peculiarità Anzi peculiarità di definirla un po' troppo Di questo gioco È che ci sono livelli molto molto brevi E Sembra diciamo di giocare a un gioco mobile Infatti secondo me sarebbe stato perfetto Su PS Vita O magari su Smartphone Ah beh insomma questi dispositivi mobile E qui Invece su PS4 secondo me ecco Stanno i livelli molto brevi Si adatta un po' meno a questo tipo di gioco Però comunque il sistema di controllo funziona bene Il gioco lo devo dire Non è neanche malaccio Adesso ci mi è raccontata anche la storia Vedete Il gioco è in inglese Audio in inglese E testi in italiano Gli sottoritori vanno attivati E vediamo Questo è un nuovo Un nuovo sistema solare Direi Vedete Ogni sistema solare Ha le sue peculiarità E questo là Mi piace molto Questo sistema solare Adesso abbiamo attivato anche queste sorte di Warmore Non so se definire l'Italia Che permettono di Aggiustare la nostra direzione E di andare più veloci Ah che carino Molto molto carino Si può anche tornare indietro liberamente Se si va sui bordi dello schermo Vedete Il gioco Un po' come Snake Come il famosissimo Snake Lo splanito gioco di tanti anni fa Che era presente sui cari e vecchi Nokia 3310 Permette di passare all'altro bordo Sono molto carino Poi il gioco punta molto Su divertire il giocatore Con le morti Infatti avete visto Il personaggio è morto E come dire Il gioco Cerca anche di essere Un pochino ironico Perché avete visto prima Lo scheletro Che fu riuscito dal corpo Del nostro personaggio In caso di botte Molto forti Molto violente In altri casi Il caso Si In danno il minimo Ecco Si prende la testata E vedete il personaggio Situare nello spazio E' molto carino Molto divertente Anche quando si muore Riesce a strappare Una risata Vedete che nel gioco Ogni volta che finiamo il livello Ci sono i vari I record Ad esempio Finiamo il livello In un minuto e dieci secondi Potevamo ottenere Il livello di platino E per ottenere Potevamo anche raccogliere 40 Obtanium E non dovevamo morire Neanche una volta Invece così Abbiamo Vedete Ci abbiamo messo Due minuti e dieci secondi Quindi livello argento Non so Adesso Un minuto e quarantacinque secondi Quindi livello argento Perché il massimo Era due minuti e dieci Per livello argento Abbiamo ottenuto Potevamo ottenuto Potevamo ottenuto Potevamo ottenuto Potevamo ottenuto Potevamo ottenuto Siamo morti Due volte E in questo caso Abbiamo ottenuto Un livello argento Che ci va proprio Un bonus Di dieci Ma adesso Vi faccio vedere Anche tutta la parte Di potenziamento Del personaggio Io direi Non essere troppo lunghi Con questo live Perché comunque In quel gioco È questo Diciamo Non c'è molto Da farvi vedere Quindi direi Di tenerci Di tenerci Verso Le Verso Lorette Ragazzi Scusatemi un attimo Fatemi controllare Se qui Do tutto bene Perché Passiamo al secondo livello Di questo sistema Solare Ah allora I potenziamenti Eccoli qui Allora abbiamo Utilità Azione difensiva Azione difensiva Adesso Ancora Un attimo Mi contattano Per altre cose Devo rispondere Per forza Azione difensiva Adesso ancora Non ho sentito L'esigenza Di prenderlo Quindi Di sbloccarli Questi potenziamenti Quindi io direi Di restare così Poi Ci sono utilità Quindi Gli avvitamenti Che vi ho fatto vedere Prima con L1 e R1 I tasti dorsali Vanno potenziati Potete decidere Se mettere Un avvitamento Brevo Avvitamento Lungo Il magnete Che è molto utile In quanto permette Di avvicinare Gli octanium Al personaggio Ci sono anche qui Credo Tre livelli Adesso Io non so neanche Quanti octanium Ci sono Anzi Quanti octanium Ho Perché C'è il mio faccione Lì che non mi fa vedere Niente Ma va bene Così Poi Azione difensiva Quindi Credo che comunque Poi Dovremmo sbloccarli E poi c'è tutta la parte Ricata al tubo Il carburante La ricarica E la velocità Io direi di fare 1 1 E 1 Ok Il magnete Va io Per il momento Col magnete Così sto A posto Ecco Vabbè Potremmo resettare Tanto Oh sì Ok Ragazzi Qualcosa Scrivetemi in chat Questa Si domanda Dobbiamo parlare di qualcosa Insomma Ripeto Il gioco Ci sto giocando Da Un'oretta O poco meno Il gioco Mi sta divertendo Non è malaccio Anzi È abbastanza divertente Voglio dire Però ecco Secondo me Non è adatto Per una console casalinga Perché il gioco Molto veloce Molto Livelli molto brevi Secondo me Si adatta molto meglio A una console casalinga Portatile Anche se In giro Secondo me Mi sembri Tantissimo Quindi magari Ecco Forse dispositivi mobile Richiedeva un pochino Più di attenzione Il gioco Richiede una certa precisione Nei controlli Perché comunque Schivare A volte Gli esseroti Li schivate Veramente Per ridottere la cuffia Quindi magari Bisognava lavorarci Un po' meglio Sopra Su dispositivi mobile Per il sistema Ha un po' meglio Ha un po' meglio Ha un po' meglio Ha un po' meglio Che cosa ci dice Qui Ha un po' meglio Perché ovviamente Quando ci si avvicina L'ordine del pianeta Bisogna rallentare Altrimenti Fate La fine Che avete appena visto Maledetto 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 L'ho fatto di nuovo Io ripeto Su PS Vita Questo gioco L'avrei visto Molto meglio Tipico Il gioco Da Ottavo Divente Con poco Però adesso Sa fare Su ore Che altro Dire Il gioco Costa 13 13 euro 12 euro E 99 Su PS4 Se non mi sbaglio Non c'è Su PS4 Non c'è Su Xbox One Solo Su Steam Oltre A PS4 Abbiamo finito Un altro livello E Il livello E Sempre Il livello Argento Ragazzi Io dall'argento Non mi sbaglio Il livello Se vi chiede un livello Di 5 minuti E' davvero Un miracolo Io fino ad ora Ho messo 2 3 minuti massimo Per fare un livello Quindi sono molto Molto brevi Molto veloci Magari ecco Potrebbe essere Quel giochino Da giocare Che ne so Quando avete Non so Ecco Faccio un esempio Per staccare Dall'Assassin's Creed Di turno Quei 5 minuti 10 minuti Fare quella partita Veloce E poi passare oltre Non so neanche Quanto è lungo Perché ecco Questo è Il secondo capitolo Perché ogni capitolo Appunto E' composto Da TOT Livelli Questo è il secondo Quindi Il secondo sistema Solare Altra sera Abbiamo raccontato Prima E Adesso Guardate Vedete Le musiche Sono molto Molto belle Ma anche Il L'art direction Ci devo dire Molto molto Carino Mi piace Mi piace Mi piace Il pacco di Harrison Lì a lasciare Questi planeti In magnificenti Burst Dangeroso Come era Lì a me Mentre Di Ghiaccianti Mi ricordi Il suo Non Unusual Behaviour Abbiamo detto Telefono Che scarica Che sta Ricaricando Nel campo Mi Vincere Ecco Lo Stacco Mad Molto 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 Vedete Adesso Il personaggio E' Morto C'era Il fantasma Del personaggio Che girava Lì Attorno Molto Molto Ironico Tutte Queste Cose No L'Oltario Eh no Devo raccoglierli Tutti Io Direi Cominciare Live Perché Sto Giocando Malissimo Ma Male 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 C'è un Aggiornamento Su mio telefono Per questo Mi stava Rompendo Le scatole Adesso Ce l'ho Metta A fare Sono In live Quindi Scusate Un attimo Ok Partire L'aggiornamento Quindi Posso Giorare Senza Problemi Sì Anche molto colorato Davvero graficamente è molto molto carino semplice però funziona si adatta molto bene al contesto no il fantasma lì che girava adesso ci vediamo anche domani pomeriggio vi ricordo ancora non so di precisi più cosa però diciamo che se prima stavo scrivendo sul pc proprio per mandare un messaggio o per cercare di recuperare un gioco per il live di domani ci sto provando vediamo se la cosa va in posto altrimenti tirerò su altro no ragazzi quando va veloce il fantasma non lo potete sentire anche le musiche sono molto molto carini quando c'è il telefono a caricare è un casino eh sa solo sa vibrare a tre ore vabbè lasciamo lo stare quarto livello del sistema 2 in maniera perché ho visto che qualcuno qualche octanium rischia di non prenderlo quindi ce lo mettiamo poi non ho più soldi mi sa che devo spostare la mia testa dall'altra parte ragazzi aspettate un minuto scusatemi eh però non vedo quanti soldi c'ho quindi non riesco a gestirmi no dove sta impostazioni avanzate video della fotocamera posizione in alto a sinistra ok ci sono infatti non ho più soldi va bene così però dai i masseroadi sono bastardissimi però ok 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 è la diretta delle morti questa no no gli esseroadi questi però sono cattivissimi cioè mi attaccano proprio a cattiveria non saremo che dove sto come quello scheletro che esce fuori dal casco è stupendo questo vediamo che si i pattern di morti diciamo così si ripetono abbastanza però comunque vedete sempre lo scheletro che esce dalla tuta è divertente in questo caso che è successo la testa si è staccata amica e poi quando vedo che muoio tanto ricomincio il livello direttamente anche se non troverete che in live altrimenti faccio sempre la stessa cosa però vabbè nel gioco ogni livello c'ha un tot ricercopone sono quelle linee gialle o verdi che attraversano ogni tanto dopo che li faccio vedere appena ci vediamo uno mi sono rimenticato il pianeta comunque è quella linea che ho appena attraversato ma porca miseria porca ok concentrati concentrati tutto bene perché l'ho messa in pausa su twitch però andrebbero esserci problemi non è una vista brutta lì qui ci parte ogni tanto la pubblicità di un charter come se il gioco lo aspettiamo poco diciamo come se il gioco lo aspettiamo io tra poco muoio, non sto muoendo da troppo lungo in questo gioco è passato un minuto però non so stiamo solo a metà e questo ve lo so andare a cercare perché era facile da schivare no ho saltato uno bitanium ho notato perché ne ho raccolti 39 ne erano 40 porca miseria tanta argento però prendo è incredibile no vabbè il livello non lo ricomincio per 1 seconda ok c'ho un altro poco poi già chiudo perché il gioco è questo diciamo magari arrivo alla fine di questo sistema iniziamo il terzo e poi basta diciamo che mi sembra inutile mantenersi lunghi su questi giochi inizialmente lo volevo fare la sera però vediamo che abbiamo sbloccato qui aspetta abbiamo qualche aggiornamento cosa mettiamo qui abbiamo 54 dai lo possiamo fare pochissimo con 54 però attento posso 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 aumentare la velocità no? è la bolla blu non è che sfizio ci ferma per qualche istante si ferma per qualche istante si ferma per qualche istante però vedete ogni ogni livello diciamo ogni sistema iniziale non gioca porta qualcosa di nuovo vi dicevo io l'inizio devo fare la sera questo live però mentre stamattina l'avevo giusto provato per capire che roba era l'avevo fatto giusto al primo livello e insomma avevo capito che era inutile farci un live serale perché in un'oretta diciamo che abbiamo visto tutto quindi è inutile fare un live di due tre ore su un gioco del genere semmeno e quindi adesso non so se stasera faccio qualche altra cosa o ci vediamo direttamente domani credo che ci vediamo direttamente domani perché forse mi sono messo in piedi di mezzo stasera quindi anche per questo diciamo che ho preferito fare oggi come dice live però non è detto i tre giornali e in più diciamo che in questi giorni mi sto dedicando molto ai giudici per chi ho giocato agli ultimi due giochi che mi arrivano da fare della giorni con l'actor salitio c'è un po' il flower molto carini in G2 più un po' meno che altro per i controlli che ho trovato il macchino sistemi all'inizio e poi ah queste morte sono solo storbit avevo intenzione anche di iniziare bastion però uno alla volta devo prima finirle qualcuno che non fa nessuno quindi non finisco questo che devo difensire e poi faremo altro anche perché devo dire che mi sta avendo la fregola e ci si fregola la voglia diciamo di fare una sorta di di istituire con i live la Indie Night o comunque un live dedicato agli ultimi nel senso che come ad esempio abbiamo fatto proprio di Uncharted 4 stiamo facendo mi sta avvenendo magari a dedicare una sera ai giochi indipendenti magari ne facciamo una settimana che poi accompagna tutto il resto delle dirette quindi Uncharted 4 e tutto il resto insomma quindi magari ecco se prossimamente magari anzi prossimamente dalla settimana rosa quindi dall'inizio dell'anno nuovo magari ci penso anche perché ogni settimana dobbiamo avere un gioco indie fortunatamente il PlayStation Plus non non ce li fa mancare devo dire quindi vedremo allora quando solitamente si arriva in questo gioco alla metà del sistema solare c'è una una scena che fa andare un pochino avanti la storia non potrei portare me stesso dopo la genza di scherzi lì verde vicino al nostro personaggio è il robottino di cui parlavo prima che si chiama Zero e che racconta la storia non potrei non potrei non potrei come un'altra mi aderire come un po' come un po' stavo leggendo sui non c'erano pesci per pesce durante le cold genti mi venivano avvenire che dal punto di vista narrativa un gioco forse ecco forse esagerò un po però mi ricorda un po gradi di questo uomo solo capiti uno solo nello spazio che ha perso a personale spaziale dopo un incidente un incidente insomma me lo ricorda vagamente il film ovviamente gravidi capito il premio oscar gravidi ha vinto il premio oscar sì mi sembra forse pure alla regia gli effetti visivi adesso non mi ricordo però insomma ha vinto qualche oscar il film di quaron era lui starò dicendo sono tante di quelle cretinate però mi ricordo così vabbè veramente fatte le dovute differenze infatti qui il personaggio in compagnia di un robottino lì invece gravidi era completamente solo insomma però come con scome concept comidenza non me lo ricorda vagamente diciamo se ho bestemmiato per voi perdonatemi non ho sblocato qualche altra cosa cioè questi salti di questi gattaconi in cui il nostro strato fa un salto per superare gli ostacoli tanto per il cambiare che sta scaricando nooo volevo tornare indietro e prendere l'ultimo tanto se andrà a 100 prendo quindi mi sto facendo problemi mi sarebbe piaciuto davvero tanto giocandolo sul mobile mi sarebbe piaciuto molto 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 difficile magari ecco tra mentre sto in macchina che aspetto che cacchio ne so qualcuno o qualcosa mi facevo una partita nella storia magari sul PS Vita che mi piace il PS Vita che comunque me la porto in video anzi me la portavo perché ultimamente non la sto facendo accendendo insomma su mobile mi sarebbe piaciuto molto molto di più perché si adatta molto meglio io però non ho capito come funziona qui il livello che ti danno a ogni livello perché ho ottenuto tutti gli ottani quindi platino nella parte ottana tempo e argento morti storie all'oro no quindi come media facendo una media mi dovresti dare oro perché mi dava al 100 non lo capisco vabbè evidentemente conto di più il tempo non lo so però ecco facendo una media non lo capisco vabbè non lo capisco non lo capisco diciamo quando muoio all'inizio livello lo riavvio sempre perché comunque sempre una morte in meno però diciamo quando poi arrivo alla fine non fa niente per trovare checkpoint quindi diciamo che sono uno di quelli che si mette a fare il precisino per ottenere il massimo del punteggio no mi sono dimenticato il coso ma c'era il coso per saltare non l'avevo visto proprio non l'avevo detto forma di salto infatti se non prende tutto altrimenti è impossibile che sia io sono pure senza combustibile forza miseria non ne ho più adesso lo capiamo ora devo dire questo sistema si fa molto interessante perché vedete il salto la sfera viola che fa andare veloce quella blu che ti rallenta insomma sta aggiungendo diverse meccaniche abbastanza interessante al gioco oh abbiamo preso l'oro grande dicevo aggiunge diverse meccaniche interessanti quindi sono molto molto curioso di vedere non so quanti sistemi ci sono però ecco già col terzo sistema voglio vedere cosa ci aggiungono ancora spero ci aggiungano qualcosa ovviamente me lo aspetto come minimo anche perché sennò facciamo sempre la stessa cosa qui ok a posto sono già quasi 40 minuti che stanno in live il tempo vola per cambiare il gioco diciamo non è particolarmente difficile bisogna fare un pochino di attenzione però insomma è abbastanza semplice e l'unica diciamo forse si diventa un momento un po' più complesso nel momento in cui volete raggiungere platino in tutti i livelli insomma per i perfezionisti ci diciamo di error di sfida un pochino più diciamo di error di sfida aggiuntivo c'è una cosa importante dov'è che senniamo? qua no mi è mancato uno studio io devo abituarmi ad utilizzare i tassi dorsali per fare gli abitamenti io devo abituarmi ad utilizzare i tassi dorsali per fare gli abitamenti ah mi ho saltato uno vabbè sempre l'oro prendo sempre l'argento prendo quindi oh perché l'ho girato? eh infatti ce ne manca uno vabbè l'argento lo prendiamo sempre va bene però questo livello non ci vado proprio male però voglio andare un po' veloce così vediamo questo terzo sistema perché sono molto curioso di vedere che cosa ci mettono dovrebbe anche cambiare la palette di colori qui siamo sul verde prima era sul... che era sul blu? mi ricordo già sette aggiornamenti di sud allora abbiamo 233 ob così qua quindi ricarica sul bo questo che serve è poi... vedete un pochino controlli come si fa per il freno si lancia una bomba con un quadrato con il cerchio si va indietro abitamento propulsori invertiti mini player con L2 si fatto fatto si si ok ok ah che stupido sono stato stupido ma 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 non ma 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 ok dobbiamo abituarci anche ad usare il freno così evitiamo queste figure barbine con il cerchio invece dice indietro però forse indietro nemmeno intendevo avrà anche bastardo il gioco è bastardissimo il gioco molto bastard ah vediamo se hanno annunciato i giochi del plus vediamo un po' perchè oggi dovrebbe arrivare l'annuncio no ragazzi ancora niente vediamo se sul blog europeo aspettate no perchè sono cominciati i primi rumor oddio più che i rumor sembrano a conferma ufficiale perchè proviene direttamente da sony sony ha inviato infatti un email a diversi studenti del psn io non l'ho ricevuto ancora insomma nella veil c'era scritto che i giochi del ps4 4 su 1 saranno Green Fandango Remastered e Hardware Rivals che se non mi sbaglio quelli devono essere free to play quindi mi sembra un po' strano ad essere sincero io ricordo chiaramente che sono free to play dopo vado a controllare però anzi vediamo se lo trovo perchè io ricordo chiaramente che dicevano Hardware Rivals World of playstation vediamo un po' comunque in pratica è un gioco di combattimenti tra tra auto in pratica non c'è scritto niente allora ricordo io male forse comunque l'uscita del gioco è prevista per il 5 gennaio quindi più o meno coincide se non mi sbaglio i giochi escono il 5 gennaio i giochi del plus sì quindi coincide anche la data di uscita quindi può essere Green Fandango e Hardware Rivals per PS4 poi gli altri giochi bisognerà vederli per essere sincero non mi entusiasmo molto perché Green Fandango sì Green Fandango lo giocarei anche volentieri perchè io all'epoca lo saltai era ancora un gioco in cielo che non c'era un calcio di giochi però insomma arrivati nel 2016 speravo di iniziare l'anno con qualcosa per un po' più riciccia diciamo così come me lo aspettavo io se lo aspettavo un po' più non che Green Fandango sia un brutto gioco anzi però eh non lo so stiamo scendendo molto perchè Sony sta contando troppo su Green Fandango deve cominciare a capire che vogliamo anche qualche tripla non ci vuole tanto credo cioè non chiediamo molto noi tendi del plus prendiamo almeno un tripla affiancato a un inn anche perchè ormai tra puoi regalare diversi tripla ormai che si trovano che davvero devono tirare un appresso i negozi butto lì gli Assassin's Creed ormai sono giochi che nei negozi trovi apprezzi irrisori se invece vuoi vai addirittura nei ah mi sono vissato è il troppo da prenderlo usato sui vari ebay sui vari che cacchio ne so subito.it e compagnia bella ti prendi anche 10-15 euro e forse sto anche esagerando quindi io davvero non capisco questi giochi qua perchè non li regalano e per farvi un esempio Rainbow Six Siege un gioco Ubisoft investito già a dicembre si trova già 40 euro nuovo da Amazon e quindi diciamo alcuni giochi svolgono davvero in un attimo non credo neanche che stanno quasi così tanto in full class poi non lo so non lavoro persone quindi non le posso sapere certe cose e poi abbiamo preso il bronzo ma come male sono andati guarda voglio riprovarlo che bastardi questi asteroidi poi diciamo già in un altro live se non mi sbaglio era con Steppert che ne parlavo insomma se tu regali un Kingzone Shadow Fall che ormai è uscito al lancio di PS4 il gioco è tuo quindi tu hai sentito teso una funzione di sonno che è un first party sonno quindi a te sonno non ti costa niente per metterlo sul plus e tu così dando un gioco come Kingzone Shadow Fall che fai? ripristini un po' la community perché comunque se tu lo regali sul plus tutti lo vanno a scaricare e tutti bene o male ci giocano quindi il multiplayer torna a essere un po' più vivo perché comunque il gioco c'ha quasi tre anni sul croppone sì perché è uscito nel 2013 era il 2013 sì il lancio sì il 2013 c'è due anni abbondanti diciamo su un croppone qui tu regalando quel gioco fai un po' di limpa vitale alla community e un pochino diciamo fai stare quieti gli animi di più giochi migliori di PlayStation Plus perché è un altro in cui mi dimentico che devo rallentare certe volte anche perché Killzone Shadow Fall il single player è abbastanza a me nel senso che è divertente sì però la storia secondo me è decisamente inferiore ai precedenti più visali della saga per me sono quasi diverto però è multiplayer secondo me Kingzone comunque il suo perché lo trovo sempre molto divertente quindi sono il multiplayer su a tutti e due ho giocato tantissimo gli altri un po' meno ma pregato l'intensa di tempo quindi diciamo che regalando uno per i Killzone non regali un brutto gioco perché è multiplayer davvero fatto bene e soprattutto magari ecco lo vendi metti Killzone gratuito sul plus vendi scontato il season pass magari qualcuno visto che comunque il season pass è una cosa abbastanza interessante secondo me per la cooperativa vendendo il season pass a un prezzo un po' più basso comunque qualcosa ci canna no che stupro quindi davvero non la capisco solo poi ecco magari sarò io che sbaglio ragionato che faccio un ragionamento sbagliato e non so cosa c'è dietro allo scegliere in c'è 3 plus può essere però ecco finalmente è una Microsoft che a dicembre ha regalato Tish però io non credo che Sony ce l'ho regalato Tish invece una Microsoft su Xbox l'ha regalato poi ecco magari regalare un gioco come Tish ma credo di un gioco come Tish mi sembra non voglio Tish perché se l'ha regalato ma è un gioco quello del genere che c'è un'anno abbondante sui trottori non credo di costo di entro poi che si gara a me se già vi il nostro ordine è un tanto ecco c'è la mia qualche bellina mi spiace anche il Don't Star per esempio lo apprezzia tantissimo c'è second blast outlast anche altri un po' meno road not taken che può produrre quindi speriamo che i giochi fatti bene qui sono passate l'onda di che scegliere metti hardware rai per questo bene è un altro gioco dove ci sono le macchine che si combattono tra loro rocket league rocket league una versione calcissica con le altre male 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 vabbè andiamo avanti insomma secondo me non ci fa una grande figura poi che poi adesso ora che ci penso però mi ricordo questa cosa l'ho letta sicuramente su hardware rivals che dicevano in pratica che per mantenere l'infrastruttura online non so che facevano davano i codici davano l'accesso al gioco piano piano non so che volevano fare se tu me lo regali su plus tutti quanti che sono andranno a scaricare fai crollare i serve poi questa ricorda di averla letta sicuramente il nostro personaggio adesso sta bello distiso se ti prende il tuo tempo se ti prende il mio arrivo e prende un macchiato i miei critici sulle navigazione devono essere un nervo perché mi ha guardato proprio a me per quanto sembra un'unico di tempo sai c'è qualcosa che si dice per un'istituto il sentimento non è tutto che deve essere con funzioni e logica mettere il tuo money dove il tuo mouth c'è ha chiesto i'll bet 25 tain i cross il prossimo ripeter before Sì, cosa c'era più di dire? Signore e signore, benvenuti al 1st Gen VEGA CUP! Trazione a voi dai nostri sponsoi, l'Array. L'Array, odds on everything and nothing at odds. Se volete i figuri, portate la civilizzazione per voi! Start your engines! 3, 2, 1... Ecco, abbiamo vinciato bene! Ok, dobbiamo fare una gara con questo robottino che ci accompagna. Ok, mancano 5 minuti alle 5, quindi finiamo questi 2-3 livelli che ci sono, vediamo l'inizio del sistema 3 e chiudiamo. ... ... E' il giro della raccoglietta non è il giro. ah dai l'avevo schivato sto giro dai mettiamoci un po' di attenzione però portano le fette di specie da quel lato dai 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 che sto morendo troppo pure in sto gioco ieri però in Uncharted non sono morto così tanto è andata un po' meglio rispetto agli altri live però mi aspetto di morire tantissimo sul finale in Uncharted è un po' più grazie 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 maledetto pianeta c'è poco da caricare si è caricato prima però vabbè grazie 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 diciamo e non è rile che 1 massimo e però questi asteroidi che stanno lì in mezzo così porca miseria Ancora? 3, 2, 1, GO! He's reeling him in! ... ... ... sta diventando cattivissimo quel gioco solo con me e questo è un momento orgoglioso per i Velen che un evento, ragazzi e ragazzi il nuovo sistema si è bello ci sono anche i portali alla porta i Velen i Velen i Velen i Velen i piccoli i piccoli i piccoli i piccoli i piccoli potremmo potrei portare un'estrino ovunque o più peggio ma non mi chiede non mi chiede ma potrei potremmo 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 a chiamato il suo il nuovo sistema adesso abbiamo insomma il nuovo il nuovo comodo molto carino anche questo sicuramente più avanti si va e più cose carine potremmo il altro potremmo che pentil ti vuoi si porta un sereo di modella però ritornano anche queste sfere che sono dalle più valute sempre a livello argente non ci smentiamo mai a che stiamo arrivando quindi questo era il terzo sistema era l'ultimo livello del secondo il resto iniziamo no era il terzo sistema che si chiama Altaio si prega si prega Altaio ma sono tre sistemi in totale vabbè poi lo scoprirete nella recensione quanto offre il gioco non so se otteniamo alle 1 e R1 va solo avanti in questi tre sistemi quindi può essere che il gioco finisce molto presto ma lo scopro va bene ragazzi dai allora io direi di chiudere siamo al secondo livello chiudiamo con il secondo livello va ci vediamo domani pomeriggio sempre alle 16 con un gioco che devo ancora decidere però ci vediamo sicuramente insomma ci auguriamo un buon anno visto che è l'ultima diretta dell'anno domani è 31 facciamo l'ultimo livello domani e poi ci vediamo a con l'inizio dell'anno nuovo insomma ci vediamo 4-5 gennaio non mi ricordo neanche quando è adesso il primo lunedì gennaio però vabbè ecco siamo morti vabbè è con questa morte tristissima con il personaggio che ha riempito di sangue il meteorite ragazzi vi saluto controlliamo solo se Sony ha annunciato i giochi del plus vediamo un po' se sono annunciati o dobbiamo aspettare domani secondo me dobbiamo aspettare domani a questo punto si va bene dai e allora ragazzi grazie per avermi seguito ci vediamo domani pomeriggio ciao e buona serata a tutti